Quinto ed ultimo risciacquo con additivo ammorbidente Programma G Come possiamo notare per questo quinto ed ultimo risciacquo il carico dell'acqua avviene a cestello fermo almeno per la prima parte del quinto risciacquo il cestello è fermo la macchina sta prelevando acqua pian pianino il livello in vasca sta salendo notiamo l'acqua in vasca sta progressivamente aumentando e adesso sono ripartite anche le rotazioni del cestello mentre la macchina sta completando il caricamento dell'acqua quindi abbiamo visto che questo ultimo risciacquo è completamente diverso rispetto ai quattro precedenti in quanto il caricamento inizialmente si svolge a cestello fermo in fase statica per proseguire poi in fase dinamica con cestello quindi di nuovo in rotazione la schiumetta che si vede qui ai lati è dovuta all'ammorbidente ecco il livello massimo è stato raggiunto senza problemi e questo è anche il risciacquo più lungo fra tutti i cinque risciacqui comprende ben due scatti del timer è è è è è è secondo scatto del programma G è è è è è è Grazie a tutti. 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 E vediamo se anche in questo caso sarà una centrifuga stabile, come nel caso della centrifuga intermedia, oppure se sarà sbilanciata. Vi posso assicurare che il programma si è svolto in maniera assolutamente impeccabile. Giriamo anche in questo caso l'angolazione del video. Grazie a tutti. Ottimo. Partenza eccellente. Anche per la centrifuga è anche in maniera assolutamente anche in maniera assolutamente. Una caratteristica tipica di queste vecchie lavatrici Rex Zanussi. in caso di centrifuga, in caso di centrifuga sbilanciata era il cigolio dei pattini e delle sospensioni. sicuramente, sicuramente più di qualcuno di voi avrà sentito tale rumore. si sente forse appena appena, se mi avvicino. leggerissimamente si sente il rumore dei pattini e delle sospensioni. questa lavatrice appunto fa ancora uso di ammortizzatori, sospensioni di tipo a pattino, che dalla successiva serie Robot Line non verranno più utilizzati, in favore invece delle sospensioni di tipo pneumatico a pistone, che non presentavano il caratteristico cigolio che invece presentano i pattini. Tentiamo, come sempre, un piccolo esperimento. esclusione centrifuga. e pian pianino il cestello si ferma. il vetro dell'oblò si è appannato con la centrifuga. vediamo un po'. se siamo fortunati e la biancheria si stacca dalle pareti del cestello. perfetto. proviamo a rilasciare l'esclusione centrifuga. 3, 2, 1. sentite? esattamente il cigolio di cui vi parlavo poco fa. in questo caso è appena appena accentuato, ecco. mi è sempre piaciuto questo cigolio caratteristico. mi è vero, non lo faccio. mi è vero, non lo faccio. mi è vero, fine del programma e voilà programma terminato molto importante in questa lavatrice al termine del programma premere la manopola del timer programmatore verso l'interno perché è l'equivalente di posizionare l'interruttore generale sulla posizione di zero, di arresto essendo questa macchina dotata di timer push-pull cari amici vi ringrazio per la visione di questa serie di video spero vi siano piaciuti spero che anche questa lavatrice vi piaccia lasciatemi un commento insomma fatemi sapere cosa ne pensate grazie a tutti per la visione ci rivediamo a presto ciao a tutti